l'amore vince l'amore vince la legge anche un insegnamento questo è il consolatore che vince la legge perché il consolatore è la madre il padre madre e figlio nello stesso tempo quindi quella figura che voi avete nella stanza è la figura maschile perché deve rappresentare il volto di cristo senza cristo non c'è dio non c'è niente come vi ho detto sempre cristo senza dio può esistere dio senza cristo non esiste quindi l'immagine è cristo ma sono tre padre figlio e spirito santo e l'immagine del della possessione dell'universo dell'armonia dell'universo della procreazione dell'universo della continua evoluzione dell'universo è la santa madre cioè lo spirito santo lo spirito creante al quale il padre anche lui si inchina perché il consolatore promesso da gesù e l'inviato giovanni la tribù di giovanni però gesù dice proviene dal padre capito il consolatore è un soprannome dato a chi oggi deve dire la verità al paraclito però l'immagine del consolatore che eugenio c'è sempre detto e giovanni poi un'altra volta ci ha detto è il padre no un'altra volta ci ha detto e eugenio negli anni ci diceva che quello era tutto alla fine davvero è tutto ma l'attenzione non cadete nella tentazione l'immagine che devi vedere quella di cristo la perfezione però quel cristo in realtà è la trinità con infatti se tu guardi cia gesù nei capelli e c'è anche le forze oscure in mezzo ai capelli a destra a sinistra ma non perché lui oscuro perché lui è tutto quindi tenete quell'immagine dappertutto perché un'immagine viva come la la tilma della vergine di guatalupe il consolatore è un'immagine viva quindi lui può uscire dalla fotografia e parlarti perché composta la pergamena fotografica c'è la carta fotografica comune dei fotografi se imprimi con l'immagine diventa viva da sola ci sono numerosissime testimonianze veramente centinaia di fratelli e amici che hanno quell'immagine in casa che veramente la vedono sorridere ogni tanto ti guarda male grazie a dio a me all'inizio mi guardava male molto spesso adesso poco aveva le sue ragioni aveva le sue buone ragioni grazie veramente importante tutto questo giorgio sono argomenti io poi più ovviamente è una scelta questa ma tu condividi più grande ce l'hai più e viva infatti a casa mia e poi sono le pareti viene del consolatore si sia poi un'immagine terapeutica guarisce da malesseri da disturbi di entità sì un'immagine anche terapeutica non solo mistica spirituale the bon giovanni family la voce degli extraterrestri il sito ufficiale di giorgio bon giovanni documenti immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi l'apparizione delle stimmate e le indagini medico scientifici più di un miliardo di persone incontrate in tutto il mondo filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre il testo inedito della madre di tutte le profezie un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi con dossier e ricerche su temi di estrema attualità una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo una risposta per chi cerca la verità buon anno buon anno il